La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Parliamo del conflitto in Ucraina, ma soprattutto parliamo dei danni enormi, enormi, che sta facendo la propaganda occidentale. Una propaganda pro-guerra di una pericolosità inaudita. Il pericolo che stiamo correndo, assecondando questo tipo di propaganda, non lo potete neanche immaginare. Stiamo veramente rischiando di entrare, a tutti gli effetti, in un conflitto con una delle maggiori potenze mondiali. E qualora non si dovesse concretizzare il sogno di certi apparati americani di portarci in guerra come Unione Europea, come Nato, si è già concretizzato l'incubo per i popoli europei di ritrovarsi in una economia di guerra, quindi con le conseguenze di una economia di guerra. Tutto questo perché stiamo supportando una vera e propria mistificazione della realtà. La prima mistificazione della realtà riguarda il fatto che Putin stia in qualche modo perdendo questa guerra sul campo o comunque stia trovando delle difficoltà enormi. Questa balla enorme è soltanto negli interessi di chi vuole continuare a tutti i costi la guerra ed ha bisogno di legittimarla agli occhi dell'opinione pubblica occidentale. Perché è ovvio che se io racconto all'opinione pubblica del mio paese che c'è un paese che è stato aggredito, che però si sta difendendo grazie alle armi che noi inviamo dai nostri paesi, grazie al supporto militare che sta ricevendo a tal punto da mettere in difficoltà una delle più grandi potenze militari, è ovvio che l'opinione pubblica è incentivata ad inviare le armi. Inviare le armi nella realtà vuol dire portare al massacro il popolo ucraino, vuol dire alimentare la guerra, vuol dire proseguire la guerra. Tutto questo va soltanto negli interessi statunitensi, ossia negli interessi di chi non è colpito dalle sanzioni, quindi non è destinato ad una economia di guerra come accade per i paesi europei e nello stesso tempo non è chiamato a combatterla, quella guerra. Ma ha tantissimo da guadagnare perché per esempio i Stati Uniti si stanno sostituendo alla Russia con le forniture di gas in Europa. Un gas, quello americano, che è prodotto inquinando senza precedenti il pianeta perché sapete bene che è prodotto con le trivellazioni del sottosuolo, è un gas che è molto più costoso, non potrà mai essere competitivo con la Russia, quindi è un gas che gli americani non si sarebbero sognati mai di poter vendere all'Europa. Potevano riuscirci soltanto con una guerra mondiale contro la Russia vincendola, invece ci stanno riuscendo facendo combattere quella guerra ad altri, strumentalizzando l'Ucraina e tirandola in una guerra che va soltanto nei loro interessi. Ovviamente per far sì che tutto questo funzioni c'è bisogno che la guerra si prolunghi il più tempo possibile perché c'è bisogno adesso di creare quelle infrastrutture, di creare quei canali, di chiudere quei contratti che permetteranno all'America di rifornire di gas l'Europa, cosa veramente impensabile. Quindi loro hanno bisogno di prolungare la guerra anche perché mettono comunque in difficoltà il loro nemico storico. Quindi loro sono gli unici, gli Stati Uniti, ad avere interesse nel protrarsi di questa guerra e lo possono fare attraverso la propaganda statunitense che vorrebbe la Russia in difficoltà, gli Ucraini sul punto di vincere una guerra che in realtà sappiamo che non potrebbero vincere mai e quindi convincere l'opinione pubblica dei paesi a non opporsi all'invio di armi. La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo.